Matti Costruzioni, dal 1958 immobili di pregio in oltre Popavese e nella riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio. Ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Partirà mercoledì 28 giugno il Buglie Poupe Summer Tour. Una serie di serate benefiche all'insegna di spettacolari esibizioni di musica, teatro, danza e poesia. Con protagonisti i concorrenti della prima edizione del Talent di JAPTv. E ricavato dall'ingresso d'offerta delle prime tradate annunciate, che si svolgeranno presso l'area esterna del ristorante al volo di Rivanazzano Terme, in via Baracca 8, zona aeroporto, sarà destinato al reparto di onco-ematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia. Uno dei principali a livello nazionale, sia per numero di pazienti in cura, che per la complessità dei trattamenti in grado di fornire. È un reparto che si occupa della cura di bambini affetti da malattie del sangue in generale, da leucemie, linfomi, anche tumori solidi. Seguiamo bambini che vanno da una fascia di età molto bassa, alla prima infanzia, da uno o due anni, anche pochi mesi a volte, e arriviamo fino ai 18 anni circa, ecco, come fascia di età. Il reparto è un centro di riferimento nazionale per la diagnosi e la cura di sindrome mielodisplastiche, leucemie e demopatie congenite. Offriamo sia un servizio di diagnosi per questo tipo di patologie, sia il trattamento con la chimioterapia, con immunoterapia e col trapianto di cellule staminali, anche o di midollo osseo, nel caso in cui questo sia necessario. Il ricavato della raccolta fondi, che verrà effettuata durante le serate del 28 giugno, 12 luglio e 9 agosto, avrà come obiettivo, attraverso il sostenimento di due differenti progetti, quello di rendere l'ospedalizzazione meno invasiva possibile. Dobbiamo immaginare che un bambino magari fino al giorno prima va a scuola, va con gli amici, va all'asilo, gioca a calcio, poi viene portato in ospedale e nel giro di 24-48 ore si fa una diagnosi di leucemia e si trova la sua vita completamente stravolta. Quindi più si riesce in qualche modo a mantenere un aggancio con la realtà, una pervenza di vita che possa essere normale, meglio è, chiaramente. Una parte del ricavato verrà devoluta agli amici del quarto piano, un gruppo spontaneo di volontari che dal 2013 si occupa di organizzare laboratori e attività di intrattenimento per i bambini e ragazzi ricoverati. Si cerca di interferire il meno possibile per i bambini che saranno in reparto, cercando di fare dell'animazione, dei laboratori, abbiamo la scuola in ospedale, ci sono volontari come gli amici del quarto piano che vengono a svolgere la loro attività ludico, ricreativa, ma anche istruttiva o didattica, proprio per cercare di mantenere un contatto con quella che è la normale quotidianità di un bambino di 5, 6, 7 o 10 anni. L'amici del quarto piano è un progetto che nasce nel 2013 ed è una realtà di cui comunque ti innamori molto facilmente, nel bene e nel male. Sono andato avanti così per due anni, 2013-2014 e poi abbiamo iniziato con la collaborazione della psicologa che si chiama Elisa Cornero a cercare di costruire un po' di gruppo e nel tempo la cosa si è sviluppata, adesso siamo in 14. Mary è una delle prime che è arrivata penso due anni fa circa, Valentina poco dopo e poi Patrizia e Marco sono gli ultimi arrivi di quest'anno. Ci sono anche progetti abbastanza ambiziosi di estenderci per progetti più grossi per l'anno prossimo. Il 24 giugno verrà questa scuola di teatro qua in reparto come prova e faranno un teatro di burattini e da questa cosa nasce un po' l'idea di impostare questo laboratorio di 10 lezioni per poter dare la possibilità ai ragazzi di fare una piccola scuola di teatro, quindi sia magari costruzione di burattini sia proprio di entrare un pochettino nella parte degli attori quindi magari con costumi, con recitazione, magari con la possibilità anche di fare un piccolo saggio di fine anno e penso che sia una cosa importante anche per avere il contatto un pochettino con la realtà e per distrarsi, penso che sia un'idea che potrebbe prendere piede soprattutto per i ragazzi un pochettino più grandi con cui è più difficile interagire e quindi ti parlo di quelli dai 16 anni in avanti. Questi ragazzi sono una scuola di professionisti e quindi sarà anche piuttosto dispendioso dal punto di vista economico e quindi sicuramente un vostro contributo con l'iniziativa che state per mettere in atto sarà sicuramente una boccata d'aria fresca per noi. Il secondo progetto, già sostenuto dall'organizzazione umanitaria Sole Terre, prevede di ristrutturare e rinnovare il Day Hospital Onco-Ematologico Pediatrico, nato per effettuare trattamenti nell'arco di una giornata, evitando ai malati di dover trascorrere la notte in ospedale. L'altro aspetto è quello di ridurre il più possibile le degenze. Buona parte della chimioterapia al giorno d'oggi si può fare anche in regime outpatient, come si dicono gli inglesi, in regime di Day Hospital o di un ambulatorio, arrivando la mattina e poi tornando a casa la sera. E poi un'altra cosa molto importante è poter garantire dei differenti livelli di assistenza, di intensità assistenziale. In Day Hospital viene il bambino che sta facendo la chimioterapia, che è un immunodepresso, che è stato appena dimesso dopo il trapianto di midollo, ma viene il bambino anche che magari deve ancora fare una diagnosi, quindi alla mattina è andato a scuola, magari ha anche rischiato di entrare in contatto con qualche compagno, con la varicella o con altre malattie. Quindi poter avere dei percorsi che siano diversi in funzione del grado di immunodepressione che un soggetto, un bambino, un ragazzo, un paziente può avere, è importante proprio a tutela della sicurezza del lavoro in Day Hospital. Il progetto che si è posto è quello di arrivare a una raccolta fondi che permetta poi di fare dei lavori di ristrutturazione, di rinnovo e di miglior definizione di quelli che sono gli spazi che sta occupando in questo momento il Day Hospital dell'Uncromatologia Pediatrica, che non sono piccoli, però sono strutturati male. Tutto sommato sono gli stessi spazi che si usavano 10, 15, 20 anni fa e che non sono stati riadattati o ridisegnati nel corso del tempo. Secondo queste esigenze che adesso sono diventate importanti. Protagonisti sul palco saranno i concorrenti della prima edizione di Buglie Poupe che si è conclusa lo scorso mese di maggio. Presenti tra gli altri anche Luca Zeppa e Leslie Guzman, la coppia di musicisti vincitrice del primo premio. Comunque sono delle grandi soddisfazioni perché sei consapevole che con la tua passione riesci a rendere felice qualcuno, che non è comunque in bellissime condizioni. Quindi per me è certamente una grande soddisfazione. È stata una grande emozione la vittoria, di averlo fatto la prima volta e adesso sarà ancora molto più soddisfacente perché so che comunque verrà dato un contributo al Policlinico. L'appuntamento è quindi per mercoledì 28 giugno alle ore 21.30 con ingresso d'offerta. Chi volesse cenare presso il ristorante al volo prima dello spettacolo può prenotare il proprio tavolo chiamando il numero 338 371 8960. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la sala conferenze del ristorante.